Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di questa, questa cazzata Ecco qui il primo, che è un Angry Birds piuttosto ambivo, cosa devo fare? Ah, posso muoverlo Quindi, dove posso metterlo? Uuuuh, e adesso? Boom, boom, così, senza una logica precisa, dovete, è così sto gioco, non devi avere una logica Tipo questo qua Ecco, per esempio, questo non può andare, deve andare al bagno, ma non può Ah, eh sì, si è spaventato Ah, il livello è fallito Quindi Ho spruzzato qualcosa sul water che è sparito tutto l'alone Vabbè, sono andato a cagare, letteralmente Va bene, ah Candy Trash, questa raga Bene Completiamolo Ah, non dovevo fare sta roba qua Buh, fuori dal normale, vediamo un po' cosa posso fare U Bene Cosa? Questo Perché c'è un tizio legato sopra un cesso? Perché? Perché? Eh, boh, lo tocco E' andato giù per il cesso Chiudi il cesso Ho chiuso il cesso e ciao E' andato, è andato Ah, 2048 Completiamo? Eh, 2049 Maffanculo Bastardissimi Uh, qualcosa vediamo Tocco in giro Adesso è giusto, adesso è giusto E' infatti Ok, bravo, bravo Livello 6 Tocchiamo in giro Perché? No, vediamo Beh, è Troppo facile Troppo facile Ah, un portale E un altro portale Quindi 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 ora L'altro lato l'ho mandato qua Cos'è? Cos'è quella roba rossa? Ah Va bene, va bene Prossimo livello C'è un tizio che ride E che sta facendo Cos'è? Teletrasporto di cubi Ah, è Minecraft Sì, sì Vabbè, è Minecraft O almeno C'è frezzato qualcosa Mi sa Vediamo Cos'è che Ah E qui Che cap Ma Vediamo Minimo Ah, divertente E adesso? Ah, così dovevo fare Andiamo un po' al prossimo Otto livelli completati Bene Qua c'è Skyrim Sì, sì Ah, se lo tolco Continua a ridere Quanto irritante Io ho trovato anche quello No, no, no Decisamente no Bello fallito Ah, ho preso la merda Mi sa Cosa cavolo Ah, dovevo far così Ecco com'era Eh, oh Non c'è Ah, se si è iscritto Cosa Mi ha sgammato? Sì, sì Mi ha sgammato Perché non vuole? Perché non partiva? Ho vinto o ho perso? Ho perso Ho perso Decisamente ho perso Perché non credo Funzionasse così Qua Cosa? Aspetta Cosa volete? Ho fatto un Ho fatto un Sì, ho fatto un volo Adesso lo trovate Oh, ho finito Prossimo livello Prossimo livello Folla Ah, livello 11 Direttura Pensavo fosse Sgammato Sgammato Volte 400 qua Bevi, bevi Bevi E basta Tutto qui Tutto qui E basta Ma Ma Che cavolo Sono diventato Un Supermutante Sono diventato Cosa? Sono diventato Che Ah, devo prendere Prima le radiazioni Dunque Vabbè Ho vinto Ho vinto Vabbè Sta Start Sta Cosa devo fa Ok Uno Due Con la banana Adesso cosa viene fuori Da merda Da merda Che? Non devo toccare Non devo toccare E adesso Ah, devo toccare Sono l'ultima Ecco cosa era Doom Mi sembra Devo spar Idkuk Ah, questo qua è Doom Questo qua è Doom Oh, non c'è altro Che posso fare Ah Ah I spar Che Gli ho sparato Un cappello Di Di Gallina Mi sembra Ho vinto Ah, era tutto qui Cibo Cibo per cani Cibo per cani Fetido 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 Che schifo Ma che Oh, ho dovuto fare Dovevo fare Il bowling Ecco cosa dovevo fare Non ci arriva subito Salta Giù Che cazzo Cos'è sta roba Aglio ma Credo sia Funzio Ha funzionato Tut totalmente a caso Ora devo Cosa devo fare Devo Devo spalare Devo Adesso devo mettere l'acqua Mi sembra Adesso cosa cresce Un odish Di me l'ho fallito Ah, devo scavare Continuamente Devo scavare Devo scavare Devo scavare Dove vado Adesso Ah, trovo il petrolio Ho trovato Il petrolio Ricchissimo Ah, così dovevo Fare soldi Bene Qua c'è un vecchio Mi sembra Questo vecchio Questo vecchio Pedofilo Qua dietro Molto spaventoso Io devo metterlo qua Dove lo spot Sì, 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 sì A me fa un po' paura Non so A voi Mi fa venire Il incubi Lo metto qua No Lo metto qui Dietro Ti affermo Lo metto dietro All'altra scatola No No Qua no Neanche Vai amici Grazie Ma che È diventato lui La bici A quanto vedo E qua c'era Vedo che qui c'è Un pazimuro Un orso Un orso Questi sono dei guscini vari E ho trovato Ah, ho trovato qualcos'altro Qua ho trovato un altro troll Nel fuoco magari Dietro l'orologio No, niente Nel armadio Ovviamente c'è qualcosa E vediamo dove devo toccar Perché Ho trovato un coso deforme E qualche cosa ci sarebbe qua Qua Che cavolo c'è Ah, dovevo uscire Qua faccio fatica a vedere io Ah, ancora sti Sti cazzoni qua Cinque giorni da Vediamo un po' Suggerimento Ma perché? Gli ho spaventati io stavolta Che cazzo Ulti Sì, magari all'ultimo Livello 20 Livello 20 Boh Chiudi Ho perso Dove devo toccare questo? Ma devo arrivare Non so Sto premendo Va totalmente A caso Magari quello No, no, no Devo arrivare a 100 Ah Che bastardo Tocca Oh Dio Oh Dio Che trollata Che trollata Vabbè dai Trollpion Traiden Trollishim Trollishim Ah Livello fallito Cosa vuoi fare? Trollishim Che trollati Come Non so Come mi è venuta Questa qui Comunque Dark souls Dark souls Sì per me Beh Vediamo Ho pochissima vita Ah Devo trollà Ho vinto giusto? Cosa fa? Mi appiscia? No No Cosa fa Allora E Alzati Mi sono mangiato Cosa? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cartigini Qua Qua mi se Penso eh Qua E Qua Basta così E qua Di apra la porta Oh cavolo Oh Sono diventato Una mumia Perché Cosa devo Dai chiedetemi La cartigenica Chiedetemi La cartigenica Adesso Si è cagato In mano Dette realmente Si è cagato in mano Ed è scappato E adesso Ha Ha un senso logico Quello che ha appena fatto Quattro X È partito No No Non è partito Devo togliere la capra Forse Oh Proviamo così Magari la capra Ha funzionato Si un parolone Ha funzionato Ok dai Basta Questa volta Che Mi sono anche un po' Stancato Di cervellarmi Con sta roba qua E Tica tica Se vi piace Ditemi Che ve lo porto ancora Che non sono finiti Quei livelli E ce ne sono Altri Ma Altri Non so Non so quanti Ma altri Vabbè Ciao a tutti E al prossimo episodio Di Non di questa roba Ma di qualsiasi altra cosa Basta che non sia questa